Bene, qui ne abbiamo, labbra bianco, Alberto Scaldandurno, del team Sparta, 166, libere. Liana Cornelio invece, Vanni Melani, team con i pochi, 166, libere, riportate il titolo, 170, libere, a voi, un minuto, una, no, dieci minuti. Grazie. 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 VINCE! A FUNERO! VARI MEIANI! VARI MEIANI! VARI MEIANI! VARI MEIANI! E' VOLITOA! Questa luna che mi mette la cintura. VARI MEIANI! VARI MEIANI! VARI MEIANI! VARI MEIANI!